Di sesto idrogeologico, vasche di laminazione ed emergenza edilizia scolastica, urge una messa in sicurezza molto ampia nel comune di Sarno a partire dai versanti dei monti interessati dalle ultime frane, attivando subito una manutenzione ordinaria e straordinaria di vasche e canali. Lo ha ribadito il primo cittadino di Sarno, Giuseppe Canfora, dopo un sopralluogo dei tecnici alle vasche di laminazione. Le allerte meteo e la situazione idrogeologica del territorio pongono da sempre nella condizione di massima attenzione alle previsioni meteo. A fronte di questo, con l'allerta meteo proprio di oggi, si è proceduto nel pomeriggio di ieri ad una ricognizione nelle aree più critiche, quelle segnate dagli incendi del mese scorso e lo scivolamento di fanghi e detriti a valle. Dunque, centro storico, via Bracigliano, zona Sambito, sopralluoghi anche nelle zone di Episcopio, Foce e Lavorate. C'è una situazione locale che deve essere studiata, deve essere attenzionata. Non nascondiamoci che c'è una situazione di disagio anche da parte dei cittadini perché all'erta arancione significherà sicuramente, fino a che non avremo effettuato i lavori di messa in sicurezza in altura a 750 metri, significherà che tutto quello che sta al di sotto di questa situazione di pericolo deve essere evacuata, c'è poco da fare. Quindi rapidamente dobbiamo fare i lavori che sono stati già appaltati, alcuni cantieri sono partiti, questo che è il più importante deve partire nelle prossime ore.